Coco Molto tempo fa, nella città di Santa Cecilia, la piccola Coco viveva felice con i genitori. Ma un giorno il papà partì per inseguire il sogno di fare musica e non fece più ritorno. Spinta dalla necessità, la moglie Imelda cominciò a fabbricare scarpe e strappò le immagini del marito musicista da tutte le foto di famiglia. Nel corso degli anni l'attività di Imelda crebbe, ma anche la piccola Coco. Ben presto anche lei ebbe una bella famiglia, con molti nipoti e pronipoti. Uno di questi, Miguel Rivera, l'era davvero molto affezionato. Purtroppo, invecchiando, Coco aveva cominciato ad avere dei problemi di memoria. Per questo motivo, era lui che di solito chiacchierava di più. La figlia di Coco si chiamava Abuelita. Abuelita si assicurava che tutti facessero il loro dovere e, soprattutto, che seguissero la regola di famiglia. Niente musica. Miguel, però, aveva un segreto. Lui amava la musica. Cantare e suonare la chitarra lo rendevano felice. Purtroppo, poteva condividere questa passione solo con un cane di strada, di nome Dante. L'idolo di Miguel era il grande Ernesto della Cruz. Ernesto era stato il musicista più importante di Santa Cecilia e la sua stella sembrava destinata a brillare per sempre, fino a che non aveva fatto una brutta fine. In casa Rivera, tutti dovevano occuparsi dell'attività di famiglia. Un giorno, alla vigilia della festa dei morti, Miguel trovò il coraggio di parlare con i suoi parenti. Lui non voleva occuparsi di calzature. Lui voleva diventare un musicista. Ma nonna Abuelita non voleva parlarne. Questa serata è dedicata alla famiglia, gli disse, mettendogli tra le braccia un mazzo di calendule e spingendolo nella stanza dove c'era l'altare delle offerte. Coco osservava silenziosamente Abuelita, che disponeva i fiori sull'altare e spiegava a Miguel l'importanza della festa dei morti. È la sola notte dell'anno in cui i nostri antenati possono tornare a farci visita. Mettere le loro fotografie su questo altare è l'unico modo per consentire loro di entrare nella terra dei vivi. Appena Miguel ne ebbe la possibilità, corse nel suo rifugio in mansarda. Là poteva suonare la chitarra che si era costruito e dar voce al suo cuore. Si mise dunque a strimpellare mentre guardava un vecchio filmato di Ernesto de la Cruz. Quando arriva il tuo momento, non devi lasciartelo scappare, diceva il suo idolo. Poco dopo, Miguel tentò di uscire di casa, nascondendo ai suoi parenti la chitarra che aveva con sé. Intanto suo padre gli si avvicinò e con orgoglio gli porse un grembiule. È arrivato per te il tempo di far parte degli affari di famiglia, gli disse. Miguel si sforzò di sembrare contento. Nel frattempo, Dante si era arrampicato sull'altare alla ricerca di cibo. Così facendo, aveva fatto cadere la fotografia di Imelda e la cornice si era frantumata sul pavimento. Miguel afferrò la foto strappata. C'era un uomo senza volto, ma con la chitarra di Ernesto de la Cruz. Papà, disse Coco quando vide la foto. Miguel si precipitò dalla sua famiglia. Il papà di Mamacoco era Ernesto de la Cruz. Annunciò con orgoglio. Ernesto è un mio antenato e io come lui diventerò un musicista. Ma la sua famiglia era molto arrabbiata. E quando il ragazzo sollevò la chitarra per dimostrare che sapeva suonare, Abuelita la prese e la fece in mille pezzi. Stringendo la foto, Miguel corse in piazza, dove si stavano svolgendo le audizioni per uno spettacolo. Ma senza la chitarra non poteva iscriversi. Cercò di farsene prestare una, ma nessuno lo aiutò. Miguel si rivolse quindi alla statua di Ernesto de la Cruz. Che cosa posso fare? In quel momento gli venne un'idea. Il ragazzo si diresse velocemente alla tomba del suo idolo, superando tutte le famiglie che si dirigevano verso il cimitero. Miguel entrò nella sala in cui si trovava la tomba di Ernesto de la Cruz. Si avvicinò alla sua famosa chitarra e, sollevandola dal suo appoggio, sussurrò Devo prenderla in prestito. Ma, appena suonò il primo accordo, dei petali di calendula cominciarono a fluttuare luminosi intorno a lui. Improvvisamente, il ragazzino cominciò a sentirsi molto strano. Tutto a un tratto, il guardiano del cimitero spalancò la porta. Chi c'è qui? Chiese. Il ragazzino, spaventato, corse fuori, ma inciampò e cadde in una tomba aperta. Per fortuna, una signora gentile si offrì di aiutarlo. Era... uno scheletro! Miguel urlò quando si accorse che c'erano scheletri dappertutto e nessun altro vivo, a parte Dante. Miguel si era imbattuto nei suoi antenati, che lo riconobbero immediatamente, anche se erano molto stupiti di vederlo. Al ragazzino bastò qualche minuto per identificare papà Julio, tia Vittoria, tio Oscar, tio Felipe e tia Rosita, i quali decisero di accompagnarlo nella terra dei morti. Gli antenati di Miguel lo condussero verso il ponte scintillante, fatto di petali di calendula, che univa le due terre. Da lì si poteva vedere la luminosa città della terra dei morti. Qui c'erano anche strane forme evanescenti, tutte radunate intorno a edifici altissimi. Gli antenati spiegarono a Miguel che quelli erano gli spiriti guida. Mentre si trovavano alla Marigold Central Station, Miguel e Dante incontrarono uno scheletro di nome Hector. Stava cercando di passare nella terra dei vivi, vestito come la famosa artista Frida Kahlo. «Se la tua foto non è esposta su un altare, non puoi attraversare il ponte!» Gli stava spiegando un agente di polizia. Lo scheletro cercò di passare lo stesso, ma senza autorizzazione restò bloccato nel pavimento del ponte, mentre Miguel lo osservava incuriosito. Miguel e i suoi antenati si recarono poi al Dipartimento Riunioni di Famiglia, dove Imelda stava discutendo con un impiegato perché non era riuscita a passare nella terra dei vivi. «La mia famiglia ha sempre, sempre messo la mia foto sull'altare!» A quelle parole, Miguel le mostrò timidamente la foto strappata. «Ehm, è caduta, ma è stato un incidente!» Si difese. «Il ragazzo deve tornare indietro!» Disse nervosita Imelda. L'impiegato le spiegò che Miguel era stato punito per aver preso la chitarra dalla tomba di Ernesto della Cruz e che, senza la benedizione della famiglia, sarebbe rimasto bloccato lì per sempre. Imelda prese allora un petalo di calendula e si voltò verso Miguel. «Ti do la mia benedizione per tornare a casa!» Disse e il fiore iniziò a luccicare. «E per rimettere la mia foto sull'altare e per non fare mai più musica!» Per Miguel era impossibile accettare le regole di Imelda. «Se voglio diventare un musicista, ho bisogno della benedizione di un musicista!» Disse a Dante «Dobbiamo trovare Ernesto della Cruz!» Poco dopo sentì Hector parlare con un agente proprio di Ernesto della Cruz. «Io e lui ci conosciamo da una vita!» «Ti posso far sedere in prima fila al Sunrise Festival!» I due fecero un patto. Hector avrebbe accompagnato Miguel da Ernesto della Cruz per ottenere la sua benedizione. In cambio, il ragazzino avrebbe esposto una foto di Hector sull'altare di casa, in modo da consentirgli di attraversare il ponte e fare visita ai vivi. Miguel accettò e Hector lo aiutò a truccarsi da scheletro. «Allora, hai qualche altro membro della famiglia qui?» chiese Hector. «Solo lui!» rispose Miguel, mentendo. Hector sperava di vedere Ernesto della Cruz durante le prove per il Sunrise Festival. Quando arrivarono, incontrarono lo spirito di Frida Kahlo. I due le chiesero del musicista, ma lei rispose che lui non partecipava alle prove. Miguel era sempre più scoraggiato, fino a quando non scoprì che il vincitore di un concorso avrebbe potuto esibirsi alla festa del grande musicista. Ora aveva bisogno di una chitarra. Nel frattempo, lo spirito guida di Melda, Pepita, stava cercando di rintracciare Miguel. Il gigante giaguaro alato procedeva annusando l'aria. A un tratto, emise un ringhio basso e soffiò sul terreno, rivelando un'impronta luminosa. «È di uno stivale dei Rivera», disse papà Julio. Pepita soffiò di nuovo, illuminando il cammino tracciato dalle impronte di Miguel. Hector portò Miguel da un suo amico, Cicciarron, che aveva cominciato a svanire. Prese la sua chitarra e cominciò a suonare per confortarlo. Quando finì, Cicciarron diventò polvere. «Se nessuno tra i vivi si ricorda di te, scompari per sempre», spiegò Hector. Quando arrivarono al concorso, Miguel era molto nervoso. Per fortuna Hector aveva un rimedio contro la paura del palcoscenico. Cominciò, infatti, a cantare ad alta voce «Oh, he, he, hei! Si sente bene, vero? Ora tocca a te!» Miguel ci provò, ma la sua voce si sentiva stento. Alla fine, Hector colpì un piede di Miguel e lui lanciò un vero e proprio grido che lo spinse a cantare. E più Miguel cantava, più il pubblico si entusiasmava. Dante trascinò anche Hector sul palco e l'esibizione dei due si concluse tra gli applausi. Mentre si inchinavano per ringraziare, Miguel vide i suoi antenati che parlavano con la sicurezza. Il sentiero d'impronte di Miguel aveva portato Pepita e Imelda direttamente nella piazza in cui si svolgeva il concorso. Hector vide Rivera. Non poteva credere che Miguel gli avesse mentito sulla sua famiglia. «Avresti potuto tornare a casa e mettere la mia foto sull'altare già da un bel po' di tempo!» Gli disse. «Tu pensi solo a te stesso!» Gli gridò Miguel, lanciandogli la foto e correndo via. Con un fruscio, Pepita atterrò davanti a Miguel, bloccandogli la strada. «Ti do la mia benedizione e tu te ne torni a casa!» Gli disse Imelda. «Non voglio la tua benedizione!» Le rispose Miguel, cercando di scappare. Ma Pepita lo afferrò dolcemente con i suoi artigli e si alzò in volo. Il ragazzino, tuttavia, riuscì a liberarsi e cadde a terra. Miguel sgusciò attraverso un cancello di ferro, mentre Imelda, rimasta intrappolata dalla parte opposta, cercava di convincerlo ad accettare le sue condizioni. Ma Miguel rifiutò nuovamente. Gli dispiaceva che lei cercasse di fargli abbandonare la cosa che amava di più. «Una famiglia dovrebbe incoraggiarti, ma tu non l'hai fatto!» Le disse. E lasciandosi Imelda alle spalle, cominciò a salire verso la torre. Miguel arrivò a destinazione, ma, senza invito, la sicurezza non lo avrebbe mai fatto entrare. Poi vide i Los Chachalacos, la band che aveva vinto il concorso, e decise di chiedere aiuto a loro. Così, nascondendosi all'interno di una tuba, entrò nella torre. All'interno, i filmati di Ernesto della Cruz venivano proiettati su maxi schermi. Miguel aveva individuato il musicista, ma non riusciva a raggiungerlo a causa della folla. Salì in cima alla scala principale, prese un respiro profondo e... cominciò a cantare a voce alta. Il silenzio cadde sulla folla, mentre Miguel, suonando la chitarra e cantando, attraversava il mare di persone. Poco prima di raggiungere Ernesto della Cruz, Miguel inciampò e cadde in piscina. Il cantante si precipitò da lui. «Va tutto bene, ragazzino?» gli chiese. Nel frattempo, il trucco era stato lavato via dal viso di Miguel. «Ma tu sei il ragazzo che viene dalla terra dei vivi!» disse sconvolto. Miguel cominciò a spiegargli di essere un suo discendente. E... Ernesto della Cruz si mostrò entusiasta. Fece fare a Miguel un giro della torre, mostrandogli tutti i regali che aveva ricevuto dai suoi fan, nella terra dei vivi. Il ragazzino gli chiese se gli era dispiaciuto lasciare la sua famiglia, e il cantante annoì. «Vedi, nessuno può opporsi al proprio destino», aggiunse. «E tu, mio caro Miguel, diventerai un grande musicista!» Miguel stava per chiedere a Ernesto della Cruz la sua benedizione, quando, all'improvviso, irruppe Hector. «Hai detto che avresti riportato nella terra dei vivi la mia foto! Hai promesso, Miguel!» Ernesto della Cruz prese la foto di Hector e lo riconobbe. «Amico mio, tu stai svanendo!» disse, notando quanto Hector fosse debole. «E di chi è la colpa?» rispose quest'ultimo. «Tu ti sei preso le mie canzoni! Le mie canzoni ti hanno reso famoso!» Miguel ascoltò Hector raccontare la sua triste storia. Anni prima aveva lasciato la sua famiglia per fare musica con Ernesto della Cruz, ma dopo un po' avrebbe voluto tornare a casa. Tuttavia Ernesto della Cruz non poteva permettere che Hector se ne andasse e portasse con sé le sue canzoni. Così insistette per fare un brindisi con lui. Hector ricordò in quel momento di aver avuto un forte mal di stomaco prima di morire. «Tu mi hai avvelenato!» gridò, rendendosi conto della verità. Ernesto della Cruz chiamò la sicurezza, proprio mentre Hector si lanciava su di lui. Le guardie trascinarono via Hector. Improvvisamente calmo, Ernesto della Cruz si mise in tasca la foto dell'amico e si voltò verso Miguel. «Dunque, dove eravamo rimasti?» chiese. «Mi stavi dando la tua benedizione!» rispose nervosamente il ragazzino. Ma se Ernesto lo avesse rimandato a casa, Miguel avrebbe raccontato la verità. Così, invece di dargli la sua benedizione, chiamò la sicurezza e lo fece portare via. «Ma io sono la tua famiglia!» gridò Miguel. «E Hector era il mio migliore amico!» rispose Ernesto della Cruz. Le guardie condussero Miguel dalla parte opposta della torre e lo gettarono in un pozzo profondo. Quando riuscì a risalire in superficie, Miguel gridò forte per chiedere aiuto. Hector, che era stato imprigionato nello stesso pozzo, si mosse per aiutarlo prima di cadere in ginocchio su una roccia. «Mi sta dimenticando!» sussurrò. «Chi?» chiese Miguel. «Mia figlia!» mormorò Hector. «Coco!» Stupefatto, Miguel si rese conto della verità. Tirò fuori la foto della sua famiglia. «Questa è la mia piccola Coco!» continuò Hector. «E questa è mia moglie Imelda!» Hector raccontò a Miguel che la canzone più famosa di Ernesto della Cruz era una ninna nanna che lui aveva scritto per Coco, per fare in modo che lei non lo dimenticasse. In quel momento Dante guardò giù nel pozzo. Il cane aveva condotto Imelda e Pepita da Miguel e Hector. Pepita si calò nel pozzo e loro si arrampicarono sulla sua schiena. Miguel realizzò in quel momento che Dante li aveva cercati per tutto il tempo. «Tu sei un vero spirito guida!» gli disse, abbracciandolo forte. In quel momento le zampe di Dante si coprirono di colori brillanti e gli spuntarono le ali. Lui le agitò e abbaiò, sollevandosi in aria. Pepita atterrò in una piccola piazza dove gli altri Rivera li stavano aspettando. Nel frattempo Hector continuava a svanire. «Coco, lei si sta dimenticando di me!» disse alla moglie. Miguel chiese allora a Imelda di aiutarlo a recuperare la foto di Hector che aveva rubato Ernesto della Cruz, raccontandole la verità su quello che era successo tanti anni prima. «Hector voleva tornare da te e da Coco, ma Ernesto della Cruz lo ha ucciso!» «Io, mi spiace, non ce la faccio a perdonarti!» bisbigliò Imelda. «Ma ti aiuterò!» Intanto il Sunrise Festival era già iniziato. Durante l'esibizione gli antenati di Miguel, travestiti da ballerini, si diressero verso il backstage. Quando Imelda trovò finalmente Ernesto della Cruz, lo colpì con una scarpa. Hector e il resto del gruppo li raggiunsero, ma lui si rialzò tenendo fra le mani la foto dell'ex amico. Nonostante l'arrivo della sicurezza, i due cominciarono ad azzuffarsi. Imelda riuscì ad afferrare la foto, ma lei si trovava su una piattaforma che saliva verso il palco. «Canta!» le gridò Miguel. E così Imelda cantò, conquistando il pubblico e nello stesso tempo tenendo le guardie lontane. Ernesto della Cruz si unì a lei, trasformando la canzone in un duetto. I due si esibivano insieme e nello stesso tempo lottavano per la fotografia di Hector. Imelda finalmente prese la foto e la diede a Miguel. Poi tirò fuori un petalo di calendula. «Miguel, ti do la mia benedizione!» disse mentre il petalo cominciava a risplendere. «Torna a casa, metti le nostre foto sull'altare delle offerte e non dimenticare mai quanto la tua famiglia ti ama!» Improvvisamente Ernesto della Cruz afferrò Miguel. Era stufo di quel ragazzino e cercò di farlo cadere dall'alto dell'edificio. Dante prese Miguel per la maglia appena in tempo, ma mentre lui scivolava dalla presa del cane, perse la foto di Hector. In quel momento Pepita arrivò svolazzando e portò il ragazzo al sicuro. Intanto, nella confusione, Ernesto non si era reso conto di aver confessato davanti a tutti di aver ucciso Hector e rubato le sue canzoni. Nel frattempo, i raggi del sole cominciavano a calare all'orizzonte. «Il mio tempo sta per scadere!» sussurrò Hector. «No, no, Coco non può dimenticarsi di te!» rispose commosso Miguel. In quell'istante Hector afferrò un petalo di calendula. «Hai la nostra benedizione, Miguel!» disse. «E non ci sono condizioni!» aggiunse Imelda, aiutando Hector a sollevare il petalo. Il petalo si illuminò e Miguel si ritrovò a Santa Cecilia. Il ragazzo corse a casa e si diresse subito da Coco. «Ho visto il tuo papà!» le disse. «Ti ricordi il tuo papà?» Ma lei non sembrava capire. Stava seduta guardando davanti a sé. Allora Miguel prese la chitarra e cominciò a cantare la sua Ninna-Nanna. Lentamente, il volto di Coco si illuminò mentre riaffioravano i ricordi. Tutta la famiglia osservava la scena con timore finché anche lei iniziò a cantare. Poi Coco tirò fuori un vecchio libro e mostrò loro un'immagine di Hector. Era il frammento strappato dalla foto della loro famiglia. L'anno seguente, come sempre, le famiglie si recarono al cimitero nel giorno della festa dei morti. La tomba di Ernesto della Cruz era molto diversa da quando le notizie su di lui si erano diffuse. Una guida turistica si fermò di fronte al negozio di Rivera e spiegò al suo gruppo che era la casa di un bravissimo compositore, Hector Rivera. Davanti all'altare, Miguel abbracciò la sorellina, indicandole tutte i Rivera che ormai non erano più tra loro. Queste non sono solo fotografie. Loro sono la nostra famiglia e contano su di noi per essere ricordati. Abuelita mise una foto di Coco sull'altare, proprio accanto all'immagine di quando era una bambina. Nella terra dei morti, intanto, Hector aspettava emozionato di attraversare il ponte luminoso. Quando un ufficiale gli diede il via libera, lui e Imelda tornarono insieme, per la prima volta, mano nella mano, nella terra dei vivi. Quella notte, circondato dalla sua famiglia, Miguel suonò la sua chitarra. Finalmente la musica era riuscita a unire tutta la famiglia Rivera. Io vi cantare questa cancion, io vi cantare questa cancion per la mia gente.